Scuola Primaria dell'Infanzia del Circolo Pessina Vitale. Questi giorni si è tenuta una festa, una grande festa, la festa dell'accoglienza, che ha davvero suscitato grandi consensi. Io sono qui con dei rappresentanti di questa scuola, ci sono i piccoli, ci sono i grandi, ci sono le nuove eleve, ci sono anche i ragazzini un po' più grandi che quest'anno frequentano la quinta elementare e che l'anno prossimo saranno costretti ad andare via. Allora, come ti chiami? Suami. Suami, tu che classe fai? La quinta elementare. Che cosa ricordi del primo giorno di scuola? E' stato bello, sono venuti alcuni acrobati e ci hanno fatto divertire molto. Ieri? Ieri è stato bello perché c'è stato anche un aereo e c'erano anche dei palloncini e poi noi abbiamo recitato delle piccole frasi. La festa dell'accoglienza cosa è stata per te? Una cosa bella. Ce la puoi descrivere? Mi è piaciuta perché i bambini mi ricordavano quando io sono entrata nel primo anno alla scuola elementare. Come ti chiami? Chiara. Chiara, quanti anni hai? Cinque. Quindi tu farai quest'anno la classe? Primaria. Primaria. Allora, sei venuta con molta gioia a scuola oppure avevi un po' di difficoltà, volevi continuare a giocare? Volevo venire a questa scuola per imparare a leggere e a scrivere. Hai già imparato? Ieri ti hanno già dato i compiti? No. Hai fatto nuove amicizie? Un poco. Allora, tu invece ti chiami? Adriana. Adriana, che cos'è per te la scuola? È una cosa che mi piace. Che cosa vuoi fare da grande? Voglio fare la giocatrice. Tu cosa vuoi fare da grande? Non mi hanno detto ancora come mi chiamo. Come ti chiami? Flavio Ungaro. E cosa vuoi fare da grande? Il meccanico delle auto. Tu invece? Mi chiamo Luca e voglio fare la batteria. Voglio suonare la batteria. Io voglio fare la pompiera. Come si fa la pompiera? Spegnere l'incendio oppure salvare un gatto dagli alberi oppure spegnere l'incendio dalle case alte. Ecco, quindi i vigili del fuoco hanno in Chiara una nuova leva. Vediamo un po'. Questo primo giorno di scuola lo chiediamo alle quinte, ai ragazzi delle quinte. È stato impegnativo? Vi hanno già caricato di compiti? Non ci hanno caricato, però in classe li abbiamo fatti. Cosa avete fatto? Esercizi di matematica perché l'italiano non abbiamo avuto il tempo di farlo. Sono un po' difficili? No. Tu quante ore studi al giorno? Due, però dipende dai compiti. Tu? Io dipendo dai compiti. A volte sto dalle tre alle otto di sera anche, a volte. A volte invece ci metto poco. Cosa ti piace studiare? L'italiano? Mi piace studiare tanto la matematica. Allora, adesso devi dare un consiglio a tutti questi bimbi che sono qua. Tu cosa vorresti dire? Dovresti dire cosa vorresti fare tu a scuola. Io a scuola vorrei fare i compiti perché mi piace tanto studiare. Allora, ritorniamo a parlare di questa festa dell'accoglienza. Come avete accolto i bambini piccoli? Beh, dandogli un'accoglienza molto speciale per noi perché a noi era tutto diverso. Questo è stato molto importante per tutti quanti perché tutto dipendeva da noi perché sennò saremmo andati via con questo rimpianto. La cosa più bella che tu hai visto ieri nell'organizzazione dell'accoglienza? Vedo i volti dei bambini che entravano nelle prime scuole primarie e quindi erano anche molto contenti. Tu eri emozionato? Un po', diciamo. Progetto Continuità è un progetto molto interessante a cui voi ci tenete molto, il vostro fiore all'occhiello. Che cos'è, cosa avete fatto fino ad oggi e che cosa farete in questo nuovo anno scolastico? Allora, il progetto Continuità caratterizza proprio la nostra scuola da tanti anni. È già iniziato per quanto riguarda questo anno scolastico a giugno con la festa dell'accoglienza dei futuri trenni che oggi proprio hanno avuto la loro accoglienza ufficiale nella scuola, proprio questa mattina con il dirigente scolastico e con la presenza degli educatori del Nido, di tutti i nidi, sia comunale e le altre nidi che operano sul territorio. Dopodiché questo lavoro continua tutto l'anno con i bambini che diventano dei tutor, che affiancano i bambini che poi passeranno all'altro ordine di scuola. Vale a dire, i bambini di 5 anni saranno i tutor dei piccolini e nello stesso tempo diventeranno i piccoli guidati dai bambini di prima e dai bambini di quinta. Però anche i nostri bambini di quinta hanno un aspetto che va curato, vale a dire il passaggio con la scuola secondaria di primo grado. E anche lì cureremo degli incontri con la scuola media e dei lavori particolari fatti nelle sezioni, nelle classi e presso le scuole medie. C'è stata grande partecipazione di questi bambini che hanno aderito davvero con molto piacere, devo dire. Quest'anno in particolare abbiamo avuto l'effetto sorpresa con un vero aereo che ha sorvolato la nostra scuola. L'aereo era il simbolo delle sezioni, delle classi prime. L'aereo inteso come viaggio, viaggio nel mondo del sapere, nel mondo dei numeri, nel mondo delle lettere, con il loro amico che li seguirà anche nel libro. Diciamo che quando hanno visto il pilota, il vero pilota che è arrivato con la sua tuta e il casco, ha lasciato i bambini a bocca aperta e poi tutti col naso all'insù per vedere questo aereo che sorvolava la scuola.